Qual è il ruolo dell'intervento chirurgico, la citoriduzione secondaria, nelle pazienti con carcinoma ovarico che hanno una recidiva platinosensibile? Questo tema è stato al centro di un interessante intervento qui a Torino alla 32esima riunione nazionale del gruppo Mito, uno dei più importanti gruppi cooperativi europei che si occupano di ricerca sulle neoplasie ginecologiche e noi ne parliamo con la professoressa Maria Giovanna Salerno. Professoressa Salerno, sulla base delle informazioni che abbiamo oggi, quali sono le pazienti che devono essere sottoposte a un trattamento chirurgico quando purtroppo sviluppano una recidiva? Dai dati oggi in nostro possesso possiamo dire che le uniche pazienti che hanno un beneficio dall'eventuale trattamento chirurgico sono le pazienti che hanno una recidiva ad una distanza maggiore di sei mesi dall'ultimo ciclo di terapia. Noi quello che sappiamo sulla patologia ovarica è che purtroppo ad oggi non siamo riusciti a ridurre la percentuale di recidiva nella malattia che rimane alta intorno al 70-80% dei casi ma siamo riusciti ad allungare la sopravvivenza di queste pazienti proprio attraverso una serie di trattamenti che sono e chirurgici e medici combinati tra di loro. Sicuramente sappiamo che nelle pazienti che non rispondono alla chemioterapia quindi pazienti che recidivano in un tempo inferiore ai sei mesi dall'ultimo ciclo di trattamento il trattamento chirurgico sicuramente non è indicato. Ecco quindi oggi ci avete spiegato che il ruolo della citoriduzione secondaria non è ancora appunto del tutto chiaro ci sono ancora molti aspetti da comprendere meglio e c'è molta attesa per i dati definitivi di uno studio che si chiama AGO Desktop 3. Di che studio si tratta e perché appunto è tanto atteso? Dagli studi che noi oggi abbiamo già realizzato e di cui abbiamo già i risultati definitivi possiamo dire che sicuramente la chirurgia come in prima linea è in prima linea cioè nel primo trattamento del tumore ovarico è un importante obiettivo nel trattamento iniziale perché mette in condizioni le pazienti di rispondere meglio al trattamento chemioterapico, al trattamento medico in generale oggi sappiamo che non si tratta solo di chemioterapia ma anche di altri farmaci che abbiamo a disposizione e così anche nella chirurgia della recidiva il sicuramente operare la paziente portare la paziente ad un residuo di malattia assente ci dà un beneficio quale però sia il reale beneficio ancora non lo sappiamo stiamo aspettando appunto i risultati di questi due studi AGO Desktop che è uno studio europeo e il GOG che invece è 213 che è uno studio americano che sono stati disegnati proprio per farci capire qual è il reale impatto della chirurgia al momento della recidiva del tumore ovarico questi studi di cui sono stati presentati i dati preliminari all'ASCO del 2017 e del 2018 ambo i due ci dicono che il vantaggio in termini di tempo alla successiva recidiva la successiva progressione è aumentato ma sicuramente ancora non ci hanno dato dei dati sulla sopravvivenza che sembra però non essere particolarmente migliorata Quali sono le prospettive future della ricerca per appunto ottenere migliori risultati? Caratterizzare sempre di più questi pazienti e questi tumori ogni paziente ha la sua patologia ogni paziente può essere e deve essere trattato in maniera diversa ovviamente per fare questo abbiamo bisogno di la multidisciplinarità sempre di più perché le competenze sono tantissime abbiamo bisogno del chemioterapista, del radioterapista, dell'oncologo medico del biologo molecolare, del genetista, del chirurgo insomma le figure che si inseriscono nel trattamento di questa patologia sono figure importanti al centro c'è la paziente e la sua malattia e quello che noi oggi sappiamo è che non tutte le malattie sono uguali